buongiorno a tutti e bentornati al tg costanza oggi affrontiamo la recente crisi economica e le difficoltà nel trovare un posto di lavoro che sta affliggendo il nostro paese negli ultimi mesi il tasso di disoccupazione ha raggiunto livelli preoccupanti e la situazione sta mettendo a dura prova le famiglie e le imprese locali la pandemia l'incertezza economica globale hanno portato a una contrazione dell'occupazione in molti settori con un conseguente aumento della disoccupazione ed una riduzione delle opportunità lavorative per contrastare questa tendenza i giovani di oggi si stanno sempre più spingendo in lavori che hanno a che fare con il settore bitcoin ebbene oggi grazie ad un nostro esperto ad un nostro inviato speciale scopriremo quali sono i metodi migliori per lavorare nel settore bitcoin andremo a vedere un po di siti che faranno al caso nostro e soprattutto ascolteremo alcune importanti testimonianze da persone che stanno già facendo questo percorso benissimo mi dicono dalla regia che abbiamo il collegamento già con il nostro inviato ciao marco sì sì ciao marco siamo quasi arrivati siamo qua a milano mancano pochi minuti siamo arrivati all'evento di cogno insomma andremo ad intervistare donne e uomini che lavorano in questo settore per capire più che altro come sono arrivati poi qua quindi ancora qualche minuto e ci siamo grazie marco perfetto tra pochi minuti sarà arrivato sul luogo dell'evento e potremo così capire in prima persona cosa significa lavorare con bitcoin ma ora lascerei la parola al nostro esperto marco che ci spiegherà come trovare un lavoro bitcoin direttamente e comodamente da casa nostra ciao marco ciao a te marco e ciao a tutti i nostri amici telespettatori allora dottori io sono marco e adesso andiamo a guardare un po di siti che possiamo utilizzare per cercare lavoro ma prima di tutto dobbiamo rispondere ad un interrogativo per trovare lavoro nel settore bitcoin devo essere un programmatore ma no ma no non per forza le aziende hanno il reparto marketing il reparto vendita il reparto ingegneristico il reparto pubbliche relazioni il reparto risorse insomma ci sono qualsiasi cioè posto di lavoro normale ovviamente fatto all'interno di un'azienda che tratta solo di bitcoin ti butta all'interno di quel settore anche perché sono aziende nuove che hanno bisogno di assumere essendo un settore in completa espansione vedrete che ci sono alcune cose molto interessanti allora una primissima distinzione da fare è quella delle due modalità la prima è quella di cercare un lavoro perché come ho detto abbiamo delle skill dell'abilità da voler mettere a disposizione per un'azienda quindi cercheremo un lavoro la seconda è quella dei grant ecco per avere un grant sì probabilmente dovete essere dei programmatori perché dopo vedremo di cosa si tratta ma praticamente c'è qualcuno vi paga così tipo come donazioni andiamo prima a vedere invece i lavori normali quelli aziendali il primo sito che andiamo a vedere è dunque bitcoiner jobs allora abbiamo due principali cose che possiamo fare o se siamo un'azienda a fare il signup sotto a employers e quindi dire io c'ho un'azienda ti dico che si chiama tizio cagli e sembrogno e sto cercando questo tipo di lavoratore ma non è il nostro caso se invece siete dei job seekers la primissima cosa che vi consiglio di fare è quella di lasciare qua la vostra mail perché vi contattano vi arrivano le novità se escono nuovi posti di lavoro ma che posti di lavoro si trovano qua ragazzi di tutto e di più capiamo quali sono le principali differenze da remoto quindi se vedete il sito remote vuol dire che voi potete anche mettere il filtro cercate solamente lavori che sono possibili da remoto e quindi potete fare anche da cosa vostra non c'è bisogno che vi spostate e poi un'altra cosa interessante è se pagano in bitcoin vedete se c'è scritto pays in bitcoin vuol dire che quell'azienda vi paga non in euro in dollari nella vostra valuta ma vi paga in bitcoin e questo può essere insomma molto 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 interessante soprattutto per lavori come vedete qua part time allora quello che voi potete fare è innanzitutto se qualche proposta vi piace ve la salvate e così poi avete la vostra bella lista di lavori preferiti mettete la mail se avete bisogno e poi cercate il lavoro che vi piace ad esempio io voglio cercare un lavoro vedete come ingegnere business operation marketing legal media events sales human resource dico ok lo voglio nel marketing qua vi usciranno tutti i lavori da marketing ad esempio the bitcoin company social media marketing introship host in texas da remoto però andiamo a vedere cosa richiedono quindi meme master e marketer in the ship vabbè mi inglese non è molto molto fluent però ci difendiamo quindi qua vi spiegano chi sono quindi sono una compagnia che ha costruito eccetera 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 cosa stiamo cercando le responsabilità appunto quello che uno deve saper fare non deve saper fare qual è il candidato ideale ad esempio qua dice bitcoin maximalist e che sappia spiegare perché è un massimalista che sappia scrivere bene con capacità comunicative che abbia già costruito un audience sui social media insomma voi prendete la vostra bella offerta di lavoro leggete tutto quello che vi richiede come che dati dovete dargli cosa dovete dargli e poi cliccate su apply to this job qua gli mettete tutti i vostri dati gli iscrivete guardate che io sono questo quello e quell'altro questo è il mio curricula gli mettete le foto le cose che dovete mettere e fine dottori questo è come si cerca un lavoro in bitcoin cercate gli dite io voglio stare nell'industria dei retail parlando di marketing e quindi qua vi dice cosa potete fare quindi brand ambassador e vi dice che qua c'avete il bonus per ogni persona che portate oppure a me va bene tutto in qualsiasi industria l'unica cosa eccolo qua vedete jobs type volete un full time volete un part time volete un contratto quindi una cosa da freelancer è iper personalizzabile e quindi iper fittato su quello che a voi interessa ovviamente io non ne ho parlato ma potete scegliere la città lo stato countries quindi stati uniti el salvador germania olanda regno unito perché al momento non ci sono delle proposte da altre parti del mondo però nel caso voi ci fosse in italia potete cercarli in italia fine fine questo è quanto cioè questi sono i lavori che potete trovare guardate quanti cavolo ce ne sono video editor part time questo me lo salvo adesso a parte di scherzi probabilmente qualche lavoro me lo salvo sinceramente al momento io personalmente non mi sento in grado di fare un lavoro così totalmente in inglese perché ancora non sono così ben messo ma se seguiti il diario di brodo sapete dove sto andando quindi questi lavori li teniamo da parte perché per me vorrebbe poter dire lavorare da remoto in un settore che conosco in un settore che amo e avere qualcuno che mi paga e non dover morire di fame cioè è una figata è una bomba quindi dottori per fare un sunto bitcoiner jobs è il sito che dovete utilizzare per cercare lavoro nel settore e ripeto le occasioni sono tantissime avete visto voi stessi quanti diavolo di lavori ci sono perché è un settore che sta nascendo quindi vi auguro in bocca al lupo se cercate lavoro da qua fatemi sapere assolutissimamente nei commenti se trovate qualcosa o addirittura se qualcuno vi assume sono molto curioso ma invece se siete dei programmatori se volete fare qualcosa di un po più challenging cosa potete richiedere un grant allora chiudiamo qua le nostre schede per tuffarci su brink e su spiral qui parliamo di grants come vedete avevo già parlato dei grants in realtà avevo anche già parlato di bitcoiner jobs in questo video qua ve lo faccio vedere direttamente da qui ve lo vado a prendere nell'intervista con alecos e daniela due ragazzi italiani che lavorano in bitcoin avevamo parlato di bitcoiner jobs ma soprattutto avevamo parlato di questi grant perché vi faccio vedere una cosa curiosa ad esempio spiral è un'azienda che dà dei grant ora vi spiego cosa sono guardate qua chi c'è daniela brozzoni perché lei ha ricevuto questo grant cos'è un grant praticamente è come se fosse tipo un rettito di cittadinanza no scherzo è come se fosse un un pagamento che ti fanno diciamo un mantenimento qualcuno che ti sostiene per lavorare a progetti open source ci sono queste aziende che sostengono altri progetti sostengono altre aziende hanno del budget per fare sviluppo e ricerca e quindi se tu sei in grado di dimostrare a loro che hai delle abilità hai già lavorato sul codice hai già fatto qualche test qualche prova io ripeto vi straconsiglio di andare a guardarvi questo video perché questo stesso argomento è affrontato in maniera molto più completa e ve lo spiegano loro che lo fanno di lavoro quindi sicuramente meglio di questa breve spiegazione hanno due programmi qua uno di fellowship praticamente è come se fosse una sorta di affiancamento di aiuto che vi fanno per entrare poi nell'ecosistema ovviamente anche qua voi dovete fare l'apply quindi dovete dire ok guarda che io sono questo e quello e quell'altro vedete cosa stanno cercando stiamo cercando sviluppatori da tutti i tipi di background che possano applicare abbiamo bisogno che tu sia appassionato di bitcoin che abbia voglia di continuare a progetti insomma vi leggete tutto quello che vi richiedono fate apply now questi vi pagano per studiare e per formarvi se non sbaglio l'ho letto prima eccolo qua fellow will be paid a competitive salary quindi un salario competitivo con tutti i tipi di benefici che ti puoi aspettare da un lavoro di appunto software ingegneristico prende spazio a londra e quindi tu devi essere insomma disposto a trasferirti ci potrebbero anche essere degli aiuti con il viaggio o con i visti proprio discussi caso per caso quindi è una figata cioè se voi siete in gamba avete voglia di fare non avete paura così di buttarvi in qualcosa di ignoto questa è la cosa migliore e poi danno anche loro appunto questi grant che è la stessa cosa che abbiamo visto per spiral quindi vi danno dei mantenimenti vi pagano per continuare a contribuire al codice di bitcoin alla sicurezza insomma le opportunità sono infinite anche da questo punto di vista qui dovete essere veramente dei tecnici dovete essere veramente preparati a differenza di prima che potete anche andare a lavorare nel marketing non vi danno un grant se siete bravi lavorare nel marketing qua dovete essere sviluppatori ed essere ingegneri però è un'ottima opportunità per per tutti quelli che sono interessati a fare questo tipo di cosa ma attenzione fermi tutti perché in fase di editing mi sono ricordato che c'è un'altra opzione per cercare lavoro non ci ho pensato perché effettivamente non è qualcosa di bitcoin only ma è cercare lavoro all'interno del settore cripto all'interno del settore web 3 direi che per cominciare va comunque bene e si tratta della community di 0x business uno dei loro fondatori penso lo conosciate si tratta di balder l'avete visto praticamente in tutti i miei blog a tutti gli eventi c'è sempre e quindi io vi lascio qua sotto i link sia per la community in generale che proprio per il gruppo telegram specifico come vedete insomma loro pubblicano una quantità esagerata di posizioni lavorative e quindi di nuovo se cercate lavoro all'interno di questo settore anche quella potrebbe essere un'ottima opportunità e grazie marco per questi bellissimi esempi che ci dato molto molto pratici per trovare lavoro con bitcoin ma è arrivato il momento ci colleghiamo col nostro inviato ciao marco ci senti ciao marco ci siamo abbiamo qui i nostri tre ospiti che lavorano tutti e tre nel settore cripto ognuno fa qualcosa di diverso tra l'altro no porca miseria tutto da rifare infatti il video è subito no 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 hai ragione ma siamo massimalisti qua in realtà hai ragione lavorano su bitcoin che è più giusto che è più giusto facendo tre cose totalmente diverse allora presentati da quanto tempo lavori con bitcoin e cosa fai per bitcoin con la tua azienda bene grazie marco per il tuo impegno si metto sicuramente del mio grazie a tutti sono gabriele pascuzzi community manager di conio come community manager nel settore bitcoin diciamo che il job title sta molto stretto perché un settore ancora molto guidato dalla community ed è fondamentale conoscere come si sta sviluppando quali sono i suoi connotati per tenere ad occhio quelli che sono gli sviluppi il possibile shaping del prodotto quindi un community manager nell'ambito di bitcoin non è solo un community manager ma si occupa anche di tante altre sfaccettature dalla comunicazione con influencer creando contenuto alla creazione di conti di eventi come questo di partnership con i gruppi studenteschi con delle entità come degli hackerspace o dei bitcoin competence center di cui al ecos vi parlerà sicuramente quindi lo sforzo di un'azienda come conio è quella di essere dirompente per l'adozione di bitcoin per lo sviluppo di questo settore per raggiungere una maturità e come lo facciamo reinvestendo io come community manager cerco di far sì che questi sforzi vengano reinvestiti dove c'è valore unendo poi i puntini per far sì che appunto ci sia una progressione sia dell'azienda ma di tutto l'ecosistema bitcoin quindi anche chi ha studiato marketing e tutte queste cose vedi che si può trovare lavoro valero dalla costa fondatore di villaggio bitcoin è un'attività di consulenza di formazione una community per avvicinare persone imprese allo standard bitcoin e scrittore anche del libro villaggio bitcoin che proprio rientra in questa idea di educazione per far sì che bitcoin non sia solo una tecnologia fino a se stessa ma proprio un cambio di paradigma che possa cambiare davvero la nostra società la cosa sta andando abbastanza bene si sta ingrandendo poco poco e la community cresce insieme anche tanti altri contributi e quindi non solo programmazione però però poi l'ingegnere ci vuole l'ingegnere ci vuole io sono alecos sono lo sviluppatore lavoro su bitcoin dal 2017 circa fine 2017 e nel questi anni ho fatto un po di tutto lavorato in azienda lavorato con grant ora lavoro come consulente diciamo indipendente quindi praticamente sono a disposizione di aziende che hanno bisogno di utilizzare bitcoin in un qualunque modo che fanno transazioni su bitcoin in qualche modo queste aziende mi contattano mi chiedono una mano gli faccio una consulenza gli spiego cose spiego come fare gli sviluppo il software necessario oppure l'indirizzo verso software già esistenti che fanno diciamo quello che gli serve e cosa sta facendo per bitcoin non saprei è complesso da spiegare è complesso da spiegare nel senso penso che sviluppare prodotti per bitcoin sia sia un modo di dare una mano a bitcoin sia un modo di portare avanti l'ecosistema un'altra cosa che sto facendo è che stiamo facendo non sono da solo è aprire un hackerspace a breccia che è la mia città natale e stiamo cercando di aprire questo questo spazio che sarà un centro di ricerca di anche un punto di incontro per bitcoin per persone appassionate dove sto cercando un po di creare una community locale che ora un po manca e penso che anche quello sia uno di tanti modi diciamo per provare a portare avanti un po l'adozione cioè quindi vedi nell'ambiente bitcoin alla fine c'è spazio per tutti e dallo sviluppatore chi si occupa della mass adoption chi invece organizza l'evento e quindi insomma questa è la realtà dei fatti poi qua ci sono un sacco di altre persone che lavorano in bitcoin andremo poi anche a prendere un po da loro informazioni è quella linea grazie grazie gentilissimi questi erano quindi i metodi di chi vuole cercare un posto di lavoro nel settore bitcoin e soprattutto le testimonianze di chi già ce l'ha fatta se questo servizio vi è piaciuto non dimenticatevi di lasciare un like e iscrivervi al nostro telegiornale perché arriveranno nuovi entusiasmanti servizi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti